La decisione della giunta è questa, il primo ciclo e il secondo ciclo aprono il 13 settembre, le scuole finiscono l'8 giugno, noi abbiamo tentato di lavorare per i 20 ma oggettivamente non puoi mettere in difficoltà le famiglie. Inizio delle scuole posticipato dietro fronte della regione che dopo aver ascoltato tutte le parti in causa ha stabilito che il primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico sarà per tutti gli studenti il 13 settembre. Il 16 coincide con un'importante festività ebraica, il 20 avrebbe creato troppi disagi alle famiglie. Abbiamo visto e rivisto questo dato e alla fine abbiamo dovuto rivederlo e vi spiego anche perché, perché la rassicurazione di avere le scuole comunque aperte come abbiamo annunciato ieri anche a scuole chiuse sembra quasi un controsenso, c'è la possibilità che i bambini, i ragazzi possano comunque andare a scuola a fare i doposcuola, i corsi integrativi, insomma, non c'è stata data, nel senso che c'è, c'è un'indicazione ministeriale ma non tutti saranno aperti, quindi avremmo creato disagio alle famiglie. Tutto era partito dall'appello del settore turistico balneare Veneto con le imprese che speravano di poter allungare la stagione delle vacanze, ma alla fine si è verificato che l'ipotesi di posticipare l'avvio delle lezioni avrebbe messo in difficoltà i genitori, di cui dunque la scelta del nuovo calendario per il 2021-22. Tutti a scuola il 13 settembre, fine delle lezioni, l'8 giugno, il 30 per le scuole dell'infanzia e poi una pausa natalizia più lunga del solito. Vacanze natalizie, e qua si fanno una bella vacanzona a sto punto, quindi pensiamo anche alla montagna, come si dice. Dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022, vuol dire che rientro a scuola il 10 gennaio.